Assessore, il 23 e il 24 febbraio, campionato regionale per lo sci. Dove si svolgeranno questi campionati che sono riservati agli under 16? Il 23 e il 24 ci saranno i campionati regionali di sci alpino, under 12 e under 16. Si svolgeranno a Santa Caterina ed è un'occasione questa per promuovere lo sport invernale di base. È un'occasione anche questa per pubblicizzare la nostra iniziativa, ovvero lo ski pass gratuito per tutti i lombardi under 16. È un'iniziativa che metteremo in campo gli ultimi due weekend di marzo, il 23 e il 24 e il 30 e il 31 marzo. Quindi in pratica ricordiamo anche le modalità con una card particolare per pagare? Bisognerà accedere al sito ski pass lombardia, inserire la propria carta di credito dal quale fuori da questi weekend gratuiti verranno scalati solamente il reale utilizzo dell'impianto di risalita. Altrimenti per tutti gli under 16 da questo ski pass lombardia negli ultimi due weekend di marzo non verrà scalato nulla e permetterà quindi agli under 16 di poter sciare gratuitamente. E con un'altra iniziativa in collaborazione con Cancro Primo Aiuto quindi c'è anche uno scopo benefico? Certo la collaborazione di Regione Lombardia con il Cancro Primo Aiuto è assolutamente forte e solida anche perché si riesce ad unire lo sport con la beneficenza. In questo caso l'aiuto e il supporto va in manata di cancro che l'associazione Cancro Primo Aiuto porta avanti sul territorio in maniera seria e profonda.